sapevate che la nostra galassia non è piatta ma presenta una leggera torsione a darne evidenza presentando lo sguardo più dettagliato di sempre dell'onda della via lattea il team della sloan digital sky survey progetto dedicato alla produzione di un'articolata cartografia digitale del cielo nell'immaginario comune una galassia spirale è un sottile disco piatto che ruota attorno al suo centro in realtà molte galassie spirale presentano una leggera torsione come quella che può crearsi in un disco in vinile lasciato troppo a lungo al sole tali torsioni si verificano in circa il 50 70 per cento delle galassie spirale inclusa la nostra via lattea della cui curvatura però sappiamo ancora molto poco questo perché trovandoci immersi in essa non possiamo averne una visione globale ma siamo limitati a una sola prospettiva quella offerta dalla terra per ovviare a ciò gli astronomi hanno misurato la posizione e i movimenti delle stelle in tutta la via lattea scoprendo che non solo il disco della galassia è deformato ma anche che questa curvatura compie un giro attorno alla galassia una volta ogni 440 milioni di anni il risultato ottenuto combinando i dati dello spettrografo apogee e del satellite gaia dell'esa mostra come le stelle si muovono su e giù attraverso il piano della galassia creando l'onda la spiegazione più probabile è che una recente interazione con una galassia satellite abbia creato un'increspatura gravitazionale e che questa increspatura stia continuando a muoversi attraverso la via lattea dando vita alla ola galattica grazie a tutti